martedì 28 novembre il paragone oggi ha pubblicato i ragazzi i miei colleghi del paragone hanno pubblicato alcune notizie clamorose una in particolare che quella che ho messo nel titolo principale è veramente a mio parere preoccupante preoccupante perché qua parlano virgolettato ovviamente di un piano paradossalmente diabolico no ecco come l'oms ci imporrà pandemie vaccini e chi ne parla una star della medicina che ha rivelato un piano a dir poco inquietante questo è d'altro sul paragone punto it attendo che state collegati per dirvi tanto arrivata la notifica ovviamente piano diabolico è piano diabolico è una frase forte è una frase giornalistica è un termine giornalistico ma il piano non è sicuramente né simpatico né intanto un pelucco qua che mi un pelucco del maglione ok che cerco di togli cercherò di togliere ma che provavo e noi delle del cappello da babbo natale che ho provato prima e ciao ciao a tutti buonasera e vedo i primi collegati adesso rosaria francesco basta non obbedire in massa dice francesco e purtroppo francese fosse così facile far capire a certa gente quello che cercano di fare quello che hanno fatto temo che la libertà in europa sia sempre più compromessa questo però un nostro parere giustamente noi ci appelliamo al diritto di avere un parere il diritto di parlare liberamente senza ovviamente pubblicare fake news ma sempre con fatti reali però dire quello che pensiamo liberi liberi di ancora certi di essere liberi o meglio vogliosi di essere liberi che c'è differenza e attendo qualche istante anni 80 90 sì ciao magari gli anni 80 e 90 amici ciao carlo clemente dove eri dove eri carlo cosa vuole in pentola tu dove eri castellaneta non ci dai informazioni su castellaneta in provincia di taranto fabrizio bella gamba ciao ciao lorenzo ciao patrizia ciao vanile daniela rosaria vasile vasilevici daniele socci buonasera anche a te tutti amici e amiche vi chiederei di condividere perché è importante questa notizia in pratica partirò con questa notizia sul paragone pubblicata ne ha parlato ovviamente la nostra la è uno dei quotidiani più interessanti per noi che è la verità e guardate c'è ecco come l'oms questo è il titolo ecco come l'oms ci imporrà pandemie vaccini la star della medicina rivela il piano diabolico cosa accadrà notizia che può sembrare inquietante perché in verità lo è inquietante dovremmo essere 10.000 collegati adesso non 200 persone quindi vi chiederei di condividere chiederei l'algoritmo di evitare di bloccarci non fate una cosa così triste di bloccare un'informazione libera onesta che cerca sempre di tenere tranquilla la gente perché non vogliamo noi mai e poi mai la violenza però vogliamo la libertà la libertà delle persone la libertà si ottiene delle volte in modi diversi saremo liberi da morti mi dicono rosario no dai speriamo di no rosario facciamoci le corna allora il nuovo trattato pandemico dell'oms amici e amiche andiamo a leggere l'articolo l'organizzazione mondiale della sanità dice che perdonatemi che tolgo alle mie spalle perfetto preferisco così e l'organizzazione mondiale della sanità che andrà a sostituire di fatto integrando il regolamento sanitario internazionale state che siete collegati ascoltate bene importante sarebbe in realtà un piano per imporre leggi restrittive alle popolazioni e giustificare la censura e la propaganda in nome della salute pubblica non lo diciamo noi non lo dice paragone attenzione che adesso arriveremo al punto non siamo solo noi a dirlo ma questa è la tesi di merrill nas quindi a parlare di questo è stato merrill nas medico e ricerca medico e ricercatrice americana la sua licenza medica è stata sospesa nel 2022 per avere prescritto farmaci covid vi faccio vedere chi è questo è un personaggio molto importante americano molto stimato era molto stimato in america e questa questa dottoressa ok andiamo a vedere cosa dice cosa dice nelle con precisione quindi merrill nas medico e ricercatrice americana e alla quale è stata sospesa la sua licenza nel 2022 per aver prescritto farmaci covid e ora continua ovviamente la sua battaglia avendone pieno titolo se a qualcuno il suo nome non dovesse dire nulla basta ricordare attenzione basta ricordare non so se vi ricordate con lei che ha dimostrato per la prima volta la grande epidemia di antraccia al mondo che era dovuta alla guerra biologica bene lei occupandosi di bioterrorismo sicurezza dei vaccini ovviamente si è occupata anche di covid ne parla la solito quotidiano chi la verità che le chiede quale sia in un'intervista quale sia il vero obiettivo delle ms con questo regolamento risponde attenzione un parere di un medico in particolare stimata internazionale ma è un parere di un medico non è la verità assoluta questa è una cosa importante però un parere importante da ascoltare noi diamo voce assolutamente a tutti dopo c'è anche a bassetti quindi pensate la verità le chiede quale sia il vero obiettivo dell'oms con questo regolamento risponde cerca in sostanza con questo nuovo regolamento l'oms secondo questa dottoressa quindi al condizionale cerca di imporre una dittatura sanitaria globale che gli permetterà di dichiarare arbitrariamente una pandemia il che le consentirà di imporre blocchi passaporti vaccinali e lancio su larga scala industriale di vaccini affrettati e non testati e per cui produttori politici che li incaricano saranno esentati dalla responsabilità quindi sostanza secondo questa dottoressa l'oms avrà questa facoltà questo onore e onere di poter lanciare quello che vuole sul mercato andando a esonerare sia i produttori che gli stessi governanti un po' quello che è successo durante il covid adesso è venuta fuori tutta la verità purtroppo è venuta fuori la verità che i vaccini non erano e l'ha messo oms l'ema l'hanno messo aziende importanti dicendo che non erano prodotti testati ovviamente lo sapevamo già l'abbiamo detto dal primo giorno la cosa però è venuta fuori del pubblicamento ufficiale spiega merlin in nas al quotidiano diretto da maurizio belpietro particolare parole testuali di questa dottoressa particolare importanza avrà la modifica dell'articolo 43 al paragrafo 4 che prevede che l'oms possa vietare l'uso di determinati farmici o altre misure durante una pandemia poiché le sue l'articolo è reale attenzione quindi non stiamo leggendo una cosa caso è reale articolo reale quindi articolo 43 lo ricordo paragrafo 4 che dice che l'oms potrà vietare l'uso di determinati farmaci o altre misure durante una pandemia poiché le sue raccomandazioni sarebbero vincolanti quindi non sarebbero più raccomandazioni ma sarebbero ordini veri e propri in sintesi direttore generale dell'oms potrebbe requisire e spostare forniture mediche da un paese all'altro decidere quali trattamenti possono essere utilizzati alimentare l'uso degli altri trattamenti un po come hanno fatto con il nostro trattamento con il il plasma iperimmune un po come con quello che di fatto l'anno l'anno boicottato ecco in questo caso potrebbero direttamente vietarlo direttamente vietare le cose e dire fatevi tachiperine vigili attesa oppure 300 vaccini sperimentali attenzione è un articolo molto interessante vi metterò il link non mi addentro troppo perché ovviamente l'algoritmo non ama quando ti addenti troppo in cose mediche io ho detto a grandi lì ne ho letto un articolo che effettivamente è presente su questo nuovo codice quindi attenzione perché è cosa molto pesante molto pesante andrà avanti questa cosa quindi è molto molto pesante altre notizie molto interessanti sul nostro paragone.it non ci non ci fermiamo non ci soffermiamo su ovviamente questo tema ma ce ne sono altre c'è un durissimo colpo questo è un articolo interessante durissimo colpo a chi amici vi faccio vedere il titolo perché è veramente pesante poi vi spiego la cosa durissimo colpo all'islam però attenzione durissimo colpo all'islam per chi non è ovviamente musulmano può essere in europa durissimo colpo all'islam in europa perché non è secondo l'europa non è discriminazione la corte dell'unione europea rigiatto un ricorso duro colpo dell'islam all'islam però attenzione non c'è da gioire perché il duro colpo all'islam in merito al velo che dicono che un'azienda può proibire di non mettere il velo a una sua impiegata un'azienda lo stato stesso di vari stati possono decidere di dire voi il velo non lo portate però se la stessa cosa potrebbe capitare a chi è cristiano col croce fisso quindi attenzione perché io non sono vedete io non sono io sono cristiano cristianissimo ciò però non toglie che non vedo perché se una signora vuole mettersi il velo perché lei è musulmane alla sua religione uno glielo deve proibire io non sono per proibire io sono per in italia rispetti le leggi italiane e tu non mi obbligi a me a togliere il croce fisso nelle scuole nelle chiese o dove impare a me ciò non togli che però se ti vuoi mettere il velo saranno cavoli tuoi non vedo perché deve essere proibita questa cosa è stato reggitato un ricorso ed è un duro colpo per l'islam perché il sacrificio di giulia cecchettini era aperto un complesso di battito sul cosiddetto patriarcato no e l'articolo parte di fatto da qua però il non o meglio e il maschio bianco e patriarcato nei confronti del maschio bianco ed etero una categoria ormai stigmatizzata veramente stigmatizzata però in verità il problema è un po ben più ampio soprattutto nelle comunità islamiche che risiedono in italia perché ci sono delle donne oppresse alle quali viene proprio obbligato il velo bene c'è chi si è lamentato di questo e in sostanza hanno l'unione europea rigettato e come segno religioso il velo dicendo che se un'azienda o un privato o un ente pubblico decide di dire tu non ti metti il velo il velo non devi metterlo e non è discriminazione perché dobbiamo è siamo in una società teoricamente dove i segni religiosi non dovrebbero essere utilizzati all'interno dei luoghi religiosi però attenzione andare a vietare questo teoricamente si vieta anche il simbolo cristiano quindi anche il semplice crocefisso poi c'è chi dice cosa diversa avere un crocefisso al collo cosa cosa differente coprirsi con un velo però d'altronde hanno obbligato la gente con la mascherina a girare con la mascherina obbligatoria adesso ti lamenti su un alvelo secondo me è veramente un errore e ciò non togli che non sono musulmano e quindi attenzione non è non pensato le male poi e la rai c'è stato un disastro non so se abbiate visto cosa è successo il rai offese da paura qua parlano tutti di bonison poi put fro quella il fuorionda shock imbarazzante della rai frasi pronunciate da un big che hanno creato uno scalpore incredibile e guardate che michele guardi frasi omofobes esiste in un fuorionda rai è finito al centro del mirino non posso amici non posso farvi vedere perché questo ha urlato una serie di insulti incredibile e nei confronti del conduttore giancarlo magali di altre persone inquadrate durante la trasmissione non posso penso che non sia bannata forse le iene ne panno guardate palla urlato in questo modo qua non posso farvi vedere il servizio perché sui social non si può ma urla incredibili quindi però vi metterò link perché potete andare a vedere tutto e capirete cosa è successo poi donne pensioni attenzione cambia l'età questa è una bella notizia perché cambia l'età minima dei contributi delle misure nella manovra 2024 quindi sembra che la legge di bilancio 2024 introduca e non poche novità in merito le pensioni con un'attenzione particolare alle donne qua vorrei un applauso anche se non sono non sono menoniano ok non lo sono e penso che non so neanche se la voterò mai giorgia meloni detto questo però ha fatto una cosa giusta però aspetta ancora che tolga le accise perché la benzina ce l'ha promesso e che faccia la commissione di inchiesta che non archivi speranza quindi attenzione meloni perché sei sempre sotto tiro però in questo caso ha fatto giorgia meloni una cosa giusta perché parla di quota 84 quindi una pensione anticipata grazie alla proroga opzione donna la nuove app social donne per pensione anticipate dal 2024 la nuova proposta è di uscita anticipata per le lavoratrici dunque c'è sistema quota 84 si tratta di un meccanismo che permetterebbe alle donne di andare in pensione a 64 anni invece che 67 quindi con almeno vent'anni di contributi e percependo un assegno di 12 mesi d'itali e un importo massimo fino a 1500 euro cosa molto interessante qua vorrei un applauso quando c'è una cosa buona e diciamolo c'è va detta a mio parere se il governo fa una cosa buona come va detto se fa una cosa sbagliata questo deve dovrebbe essere la normalità purtroppo però da una parte dall'altra di gente che ha ragione in modo normale non ce n'è perché tutti sono contro tutti poi attenzione questo è importante notizia molto importante perché si parla delle bollette che riaumenteranno la cosa è praticamente certa attenzione attenzione collegati che vi diremo come fare a non farvi fregare perché ci sarà la possibilità di un riaumento doppio triplo delle bollette non ne stanno parlando ma sarà così purtroppo la nostra previsione è quella ci sarà mercato tutelato che ciao di luce gas ciao possiamo dire ciao al mercato tutelato quindi attenzione come funzionerà il passaggio le date da ricordare i trucchi vi daremo i trucchi per non farsi fregare cosa succede con il passaggio del regime tutelato al mercato libero lo sapete qualcuno di voi lo sa se nei commenti volete scriverlo qualcuno di voi lo sa perché qua come procedo nella scelta di un nuovo fornitore come fai cioè vai pari o dispari usi i dadi no c'è un modo come posso risparmiare soprattutto proviamo a fare un po di chiarezza e dare qualche suggerimento e in vista del fatidico gennaio perché è vicino il termine gennaio 2024 perché per i clienti domestici non vulnerabile di energie elettriche invece la data noi e la data e sarà ad aprile andiamo a capire di più in quest'articolo molto molto interessante scritto da gabrie l'amico gabriele angelini trovate tutti qui tutto io vi do solo vi dato solo questa questa notiziuola che sembra una manualità ma non lo è ci sono i trucchi come fare ad evitare di essere salassati dalle bollette notizia molto interessante sul nostro paragone poi non me ne parlo ma vi metto il link per andare a vedere altre notizie anche a roma nel mirino allora questa questa è preoccupante questo è veramente preoccupante perché avete presente il quel pazzo scatenato della corea del nord che nell'algoritmo non può dirmi nulla è un pazzo scatenato veramente quello è veramente fuori di testa e considerando che uno che secondo me da solo non fa la ho col bicchiere però anche a roma nel mirino voi direte come roma nel mirino della corea del nord si è tutto vero perché c'è un satellite spia della corea del nord che allarma l'italia cosa sta succedendo anche a roma nel mirino della corea del nord la notizia rimbalzata velocemente su tutti i media italiani perché il nuovo satellite spia messo in orbita da kim jong-ung preoccupa il mondo visto che sta scattando e trasmettendo foto di siti sensibili e diversi di diversi paesi tra cui gli stati uniti appunto l'italia quindi se vi capita di essere fuori guardate il cielo guardate kim jong-ung gli fate i cornoi kim jong-ung vai via via fatene perché purtroppo è la verità è la verità e ci sta ci sta spiando quindi la cosa che mi chiedo io ma se c'è un satellite spia che perché non l'abbattiamo che abbiamo tutta la tecnologia del mondo basta fare un bel lancio e abbatterlo così si leva dalle scatole perché si ci spia non vedo perché ci deve spiare visto che un satellite di un pazzo scatenato e veramente con chi armi nucleari e che non ha se non è non non ha tutte le rotelle a posto va beh detto questo pronto all'assalto del governo c'è l'allarme di crosetto crosetto scatenato guarda lo vedete qua la di qua lo vedete qua ecco rosetto scatenato perché c'è l'allarme di crosetto che ha creato un vero proprio panico nel centro destra cosa sta per succedere un nuovo scontro tra il governo e la magistratura sembra inevitabile con tensioni crescenti da entrambe le parti ne hanno parlato i quotidiani stamattina ribadiamo la notizia noi a intervenire sul tema è stato nell'ultimo ora anche il ministro della difesa guido crosetto che in un'intervista rilasciata il correre della sera dice che la magistratura vuole attaccare il governo quindi questo invece nei gruppi parlamentari della destra detto così ascoltate nei gruppi parlamentari della destra e su fino a palazzi chigi si arpeggia la paura che una parte della magistratura le presunte toghe rosse di berlusconiana memoria di berlusconiana memoria attenzione stiano per scatenare un assalto giudiziario al governo diciamo che diciamo che io vorrei ecco qua e mi fermerai un secondo ditemelo voi nei commenti ma secondo voi ma secondo voi ci sono esistono veramente le toghe rosse che in questi 20 30 anni hanno attaccato hanno attaccato i governi di centrodestra tipo berlusconi ditemelo voi nei commenti facciamo capire cosa pensa il popolo secondo voi lasciatelo spiare vede che disastro stiamo si è lontana da solo mi retta dice quindi guido crosetto è tanto preoccupato per le toghe rosse ma secondo voi secondo voi le toghe rosse esistono veramente secondo voi veramente fanno gli attacchi al governo perché il pd è incapace di fare una proposta decente da una politica che è pessima e quindi deve usare la magistratura attendo i vostri commenti antonio allora enrico troiani dice sì sì e basta rosario dice sì esistono le toghe rosse reset che geste ma è ma e simili esistono le toghe rosse sì antonio dice di sì gianni lorenzo ma dai crosetto vive sereno a mare ne e lorenzo milani dice ma dai crosetto ancora gianni guarriere dice simili esistono le toghe rosse e la cesare dice esaminiamo per ok ok mariana galassi magistrati sono non si dice non si dice palamara non si dice berlusconi non si dice ok tiziana massaro rosse nere blu e verdi quindi di tutti i partiti patrizia cianciullo io dico no tipo quando dicevamo che esisteva l'uomo verdi non ho capito cercherò di comprenderla quindi esistono non esistono notizia preoccupante ovviamente scatta questa guerra la cosa che mi chiedo io però è possibile che tutti tutte le volte questo io me lo chiedo adesso onestamente tutte le volte che va sul centro destra partono le toghe rosse ma sono partono anche per verso la sinistra quindi io secondo me esistono sì esistono le toghe da una parte e dall'altra che purtroppo si mettono in mezzo alla politica quando le opposizioni non hanno ciccia in mano politica quindi essendo veramente deboli a livello politico non hanno avendo niente l'unico modo per far cadere i governi utilizzare le toghe l'abbiamo già visto con berlusconi l'abbiamo visto il governo berlusconi è caduto colpa delle toghe rosse ve lo ricorderete quindi assolutamente vero poi notizia che ha fatto il giro delle iene con bassetti ne ho parlato oggi notizia bellissima trovate il mio video in diretta e integrale comunque bassetti dove è stato tra virgolette attaccato dalle iene per giusto motivo l'anno l'anno di fatto hanno dato una lezione a bassetti incredibile c'è il video integrale da vedere sul nostro paragone punto it bellissimo vabbè queste sono poi le notizie principali di oggi come vedete e quella dell'oms molto molto preoccupante quella del piano diabolico per quelli appena collegati è molto molto preoccupante perché c'è un articolo c'è un articolo che è letto noi abbiamo letto l'articolo effettivamente dice che loro potranno fare quello che vogliono e noi tutti zitti zitti silenzio dovremo accettare tutto quello che ci imporranno quindi preparatevi amici preparatevi perché siamo solo in questi tre anni uno dice eh finite tutto finalmente no no siamo solo all'inizio la cosa bella però che che non ha mollato in questi tre anni vi assicuro che non mollerà neanche nei prossimi 30 anni mi dispiace per quelli che hanno mollato perché rimolle ne sono certo tanti di quelli che hanno mollato la prima volta molleranno una seconda una terza sempre che a una terza ci arrivino ciao a tutti chi vuol capire capisca ogni dubbio è molto lecito ciao a tutti buona serata vi voglio bene a più tardi non posso neanche dire fuori dal coro stasera ce lo guardiamo perché è domani sera e una ero abituato al martedì stavo per dire questa sera fuori dal coro no domani sera ciao a tutti sono totalmente sono totalmente d'accordo con te Robby grazie Alessandro mai mollerò allora scrivetemi nei commenti prima di salutarci io vorrei un saluto da gente che non mollerà e io non mollerò più chi ha già mollato ce ne sono tanti che mi seguono che purtroppo hanno mollato obbligati scrivetelo mollerete ancora chi non ha mollato mollerà e chi ha mollato rimollerà di nuovo ditemelo nei commenti ragazzi ditemelo nei commenti ti vedo e salti lo so salto salto la rete mi fa saltare ok vediamo ciao a tutti buona serata scrivetelo nei commenti chi non ha mollato mai mollare dice giannina e vittore dice mai marisa dice ciao buona serata non mollerò non mi piego proprio manuela tiziana massaro io non mollerò mai 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 ragazzi bravissimi bravissimi ricordatevi che chi molla chi molla prima o poi barcolla però non si rialza la cosa brutta è quella ciao a tutti buona serata